Benvenuti o bentornati sul mio canale e in un nuovo booktag. Io questo non l'ho scelto stavolta, sono stata taggata da Alessia di iLibrary, il nome del booktag è Tutto tranne i libri e lei mi ha taggata e quindi adesso lo facciamo insieme. Mi sembra strano fare un booktag senza libri, ma un po' mezza che li riesco pure a infilare. Prima di cominciare mi presento, sono Sara Elliot e su questo canale parlo di cultura, prevalentemente libri, booktag, senza libri, e opera lirica. Trovate qui su la playlist con tutti i miei video più montati in cui mi travesto e faccio vari personaggi come la truzza e la prof per mettermi in difficoltà da sola. Perché ho problemi. Comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un mi piace se questo video vi piace e vi interessano i miei argomenti. Giù nei commenti potete rispondere anche voi alle domande perché ve le lascio tutte in info box e direi di cominciare. Numero 1. Qual è la cosa di cui possiedi tanti articoli che non sono libri? Io mi definisco una persona piuttosto minimalista, quindi non ho tante scarpe, non ho tanti vestiti, odio i trucchi, lo vedete penso. Non mi interessano i gioielli, ho questi tipo da quando avevo 10 anni e non ne compro. Penso che siano tutti sprayi di saldi, saldi che posso usare per i libri, però non sto giudicando nessuno che compra tante cose. Ho abbastanza borse di tela, ma perché magari una ogni tanto me ne compro in viaggio, ma anche l'anno supero la decina credo. L'unica cosa che mi è venuta in mente è una piccola collezione che facevo soprattutto quando ero al liceo, adesso non ho più tanto tempo per dedicarmici. Ed erano le bustine di zucchero, sembrerò pazza come al solito. E' tipo un leitmotiv di questo canale, sembrare pazza. Ma le bustine di zucchero sono gratis, sono ovunque e mi piaceva prenderle soprattutto all'estero perché si vedeva la differenza. Questo per esempio è delle bustine spagnole. Non sono le più belle che ho, le più belle forse sono le francesi perché loro hanno le zollette di zucchero, quindi sono facili da spacchettare e hanno sempre dei quadri bellissimi. E niente, era una mia piccola collezione, che poi non è neanche tanto piccola perché ce ne ho parecchie, ma ora non la faccio più perché mi mettevo proprio con un ago a tagliare un pezzetto di bordo, a tagliare tutto lo zucchero, sennò si rovinano e è forse la cosa che ho più in quantità numerica. Seconda domanda, cosa fai nel tempo libero oltre a leggere i libri? Quello che fanno tutti, viaggiare, perché comunque nel Lazio abbiamo un sacco di cose da esplorare, lo vedete anche nei miei vlog, come vedrete anche a Nepi. Poi a Roma c'è tantissima scelta, quindi vado a teatro, vado a vedere mostre, vado al cinema e se non ho un soldo bucato da spendere vado semplicemente in centro a fare una passeggiata con gli amici. Terza domanda, cosa hai sul comodino esclusi i libri? Ho una cornice con un insieme di foto, con il mio ragazzo e con i miei amici e una lucetta. Basta, è anche molto piccolo il mio comodino, ma per il resto sono libri. Tengo io tutti i libri che mi ha regalato il mio compagno lì. Domanda numero 4, cosa compri nelle librerie oltre ai libri? E segnalibri, però di solito i segnalibri li compro in viaggio e mi piace di più comprarli da piccoli artigiani e artisti. Per esempio a Venezia ho preso tre segnalibri, uno mi è stato regalato, uno l'ho comprato in libreria ad acqua alta e uno l'ho preso da un artista, secondo me questo è il più bello. Poi mi hanno regalato alla libreria acqua alta questo qui su San Marco e questo l'ho proprio comprato, sempre alla libreria acqua alta. Poi non compro altre cose perché tutta la roba di cancelleria mi piace da morire, però ho sempre paura di comprarla e poi non usarla perché è troppo bella o comunque sono tanto 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 costose le cose in libreria rispetto a una cartoleria qualsiasi quindi tendo sempre a risparmiare, sembrerò una tirchia assurda in questo video però mi piace tanto risparmiare. Grazie a tutti! Qual è il regalo più bello che hai ricevuto, escluse gift card per libri e libri? Ho pensato a tre regali, uno è immensamente affettivo e gli altri due sono anche grossi dal punto di vista monetario ed è la telecamera con cui sto girando, che papà l'ha comprata per tutta la famiglia, però lo sto usando tantissimo io per lavorare per il canale il computer, perché avevo bisogno di un computer nuovo per montare più velocemente e quindi quello è stato un enorme investimento da parte dei miei genitori e li ringrazio e l'ultimo è molto personale, però può essere un'occasione per altri di fare un regalo romantico a pochissimo ed è che al primo anniversario con il mio compagno, è passato un sacco di tempo, è passati nove anni, stiamo insieme da quasi dieci mi ha comprato un ombrello giallo In che senso? E vedete, è scemo E voi penserete, che regalo è? Lui si è guardato un sacco di serie tv che ci piacevano e ha scelto How I Met Your Mother perché l'ombrello giallo è l'occasione per loro di incontrarsi Poi sappiamo tutti che finisce un po' così, ma all'epoca non era finita la serie E quindi non doveva essere presaggio di morte per me O cosa? Era proprio un simbolo d'amore che lui aveva trovato nelle serie tv perché a noi piacciono tantissimo le serie tv E quello è uno dei regali per me affettivamente più dolci che abbia mai ricevuto Sono molto a disagio a parlare di cose mie, per questo che non faccio il booktac personale Comunque è un regalo bellissimo che io ho considerato immensamente romantico Poi, storia tristissima, si è rotto perché si è arrugginito in alcuni punti Però io lo conservo ancora, anche se è rotto Penultima domanda Quali canali YouTube guardi non legati ai libri? Allora, io sono un'enorme fruitrice di YouTube Io adoro un miliardo di canali Sono iscritta a tutti con la campanella proprio nera Perché voglio vedere tutte le loro uscite Ho preso soltanto i propri miei preferiti in assoluto Anche scegliendone uno per argomento, diciamo E ovviamente quello che amo di più, che è anche quello che mi ha spinta ad aprire il canale YouTube È Barbascura X Che saluto e ringrazio anche per le volte che ha condiviso i miei video Il trono del muore perché per me è uno stimolo immenso per i meme Per trovare idee, per pensare anche le tempistiche, le musiche, gli effetti audio Un altro che adoro ed è anche immensamente bravo dal punto di vista dell'informazione Vi consiglio il suo ultimo video sul nucleare Ed è Cartoni morti Poi Frafrog è quella che amo di più per i video di disegno C'è anche Richard Htt Però a me Frafrog piace tantissimo perché fa anche tanti video di informazione I The Jagal sono forse tra i miei preferiti di sempre perché mi fanno morire Io sono felice anche quando becco le loro pubblicità in tv Sia perché sono felice che loro facciano soldi e crescano Ma anche perché mi fanno morire Cioè quella Ci prendiamo un caffè A foca Alla canganera foca Poi c'è Cane Secco Perché anche lui mi ha sempre dato la carica per girare Per mettermi in gioco Per provare a migliorare il canale YouTube Anche dal punto di vista della qualità Sono a lutto da quando non fa più i vlog e fa soltanto i documentari Però capisco che non è che poteva passare tutta la vita a fare i vlog Perché per lui poteva non essere uno stimolo Persi in Corea Che è Anna di Persi in Corea Perché adoro tutte le parti culturali E mi diverto tantissimo anche sul suo secondo canale Che è Mr. e Mrs. Strange Mi sembra In cui sta con Min Che è il suo compagno coreano Loro vivono in Corea E i loro video mi piacciono da morire In viaggio col tubo per i viaggi Anche se a me piace viaggiare a basso costo Quindi dovrei guardare più Human Safari Ma i loro video sono immensamente estetic Quindi mi piace proprio guardarli per le immagini Poi non farò mai e non mi potrò mai permettere quello che fanno loro nei viaggi E da ultimo anche a Creative Life Che è una designer più o meno dell'età mia forse un po' più piccola Che vive a Roma e a Milano E fa dei vlog anche lei della sua vita Ultima domanda Tagga altri canali in cui si parla di libri O io ce provo E taggo Gaia Lapasini Perché seguo tantissimo e con molto piacere Gaia se ti va puoi fare il tag Non so se l'hai già fatto in passato Di solito lei non fa tanti book tag Però io ce provo Siamo arrivati alla fine Ho fallito perché non vi ho parlato di libri Vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Attivare la campanella Per essere aggiornati su tutte le nuove uscite Noi ci vediamo lunedì per un nuovo LL lunedì Letto, leggendo e leggerò E ora non mi rimane che augurarvi Buona lettura Anche se oggi non abbiamo parlato di libri E quindi boh Buona visione per i prossimi video Se ora mi seguite Ciao 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 Ciao